Noi abbiamo trasformato una Repubblica in una serie di portavoce nominati da Napolitano, anche qui non si sa che titolo perché bisognerebbe passare da verso le elezioni politiche, non attraverso Napolitano per nominare un Presidente del Consiglio. Ne ha nominati tre, uno dietro l'altro, ma chi li ha nominati veramente, lui o Draghi? Perché Draghi con questa affermazione se lui dice che li caccia vuol dire che li mette pure. Il Presidente della BCE, i giovani vanno assunti invece che licenziati, perfetto, ma Draghi chi non crea lavoro sparirà, ma come fa a sparire? Se non ci sono elezioni politiche, non si sa. Qui siamo arrivati ormai a delle persone che non sono neppure più dei portavoce, io parlo degli ultimi tre non eletti ma nominati da Napolitano e quindi parlo di Monti, di Letta e di Renzi, i quali non sono neanche più portavoce della BCE, ma sono portaordini della BCE, eseguono e basta.